Bellissima luna, mi è il segno del sagittario, è una luna che parla di amicizie, che parla di incontri, che parla di comunicazioni, notizie che arrivano alle vostre orecchie, inviti per trascorrere una giornata in compagnia dei vostri amici o inviti che riguardano una serata da vivere in coppia, da vivere a due praticamente. Questo è un periodo in cui l'amore può essere grande protagonista delle vostre serate e delle vostre giornate, voi dovete solamente superare una certa diffidenza che in questo momento provate, soprattutto nei confronti delle persone appena conosciute, insomma non vi fidate fino in fondo, mentre nei rapporti di vecchia data, insomma vi sentite un po' più rassicurati dalla vicinanza del partner e questa luna vi permette di essere anche un po' più leggeri, un po' più simpatici, un po' più superficiali, il che non guasta, a tutto vantaggio proprio del divertimento e dell'allegria.